Buongiorno a tutti amici, buon lunedì e benvenuti in una settimana importante per la Juventus, per il calcio e per il calcio mercato perché questa è la settimana in cui vizieranno ufficialmente gli europei l'Italia giocherà sabato sera contro l'Albania la sua prima gara del girone ieri sera ha vinto contro la Bosnia un amichevoli con gol di frattesi su asset di Federico Chiesa dove hanno giocato anche tanti giocatori della Juventus e dove ha giocato anche i calafiori che è un obiettivo della Juventus e arriveremo a parlare in questo video ma soprattutto calafiori e Juventus si incrociano sotto il nome di Tiago Motta questa dovrebbe essere la settimana delle firme anche di Tiago Motta firme e poi conseguente annuncio da parte della Juve insomma questa è la settimana in cui instano a muoversi alcune cosine questa è la settimana degli incastri questa è la settimana in cui iniziamo ad andare a raccogliere tutto quello che ci siamo raccontati all'interno di questo percorso di queste settimane tra l'altro questa potrebbe, non abbiamo ancora conferme da questo punto di vista proprio perché comunque l'europeo toglierà energie e tempo e concentrazione anche agli atleti impegnati con la nazionale a quelli che devono essere i discorsi legati al club ma questa dovrebbe essere anche la settimana nella quale l'agente di Federico Chiesa Ramadani si incontrerà con la Juve per cercare di chiarire la posizione del suo assistito per fare il punto della situazione e cercare di capire quello che accadrà effettivamente questa estate se Federico Chiesa sarà un giocatore in uscita dalla Juve oppure no ci sono grandi possibilità è molto probabile che questo accada non abbiamo ancora certezze come qualcuno mi chiedeva nei commenti la certezza è quando ovviamente escano i comunicati ufficiali o giù di lì però ci sono molte molte possibilità abbiamo Milik che sarà operato per fortuna scongiurata l'ipotesi legata al crociato Milik starà fuori 40, 50, 60 giorni una roba del genere quindi non un periodo immenso nemmeno un periodo breve è sicuramente una buona notizia rispetto a quelle che erano le paure invece delle prime ore, dei primi momenti anche riguardando il video dell'infortunio di Milik a maggior ragione se pensiamo alle ginocchia che purtroppo hanno i segni di tante battaglie ormai vero, caro vecchio Arek e vedremo se la Juventus alla fine sarà costretta anche a tornare sul mercato per cercare un vice Vlaovic oltre a Milik ieri nel video con Giovanni Albenese abbiamo parlato di Morata quel video l'abbiamo registrato sabato ed è stato bello poi vedere che nella giornata di domenica le voci su Morata sono rimbalzate anche da più parti il video era già disponibile per gli abbonati sabato per tutti gli altri è stato disponibile domenica proprio nel giorno in cui uscivano con un po' più di forza e di prepotenza le ipotesi legate a Morata quindi è stato tutto perfettamente collegato vorrei però prima di entrare all'interno della tematica vera e propria del video e cioè due trattative in particolare quelle legate a Scesni e quelle legate a Calafiori fare un passo indietro nei confronti di una competizione che giocheremo l'anno prossimo perché ci siamo qualificati quest'anno da quando il Napoli è stato eliminato dal Barcellona in Champions League la Juventus si è guadagnata l'accesso al Mondiale per club una competizione FIFA che avrà la sua prima edizione proprio nell'estate il 2025 esattamente tra un anno se oggi siamo qui a fare il conto di quanto manca agli europei tra un anno sperando di essere ancora tutti qui ci ritroveremo a fare il conto alla rovescia invece per l'inizio di questa competizione ci sarà questa competizione? questa è una domanda che dobbiamo farci oggi dobbiamo porci oggi per un motivo Carlo Ancelotti in un'intervista rilasciata al giornale diciamo che non è stato proprio morbido nei confronti del Mondiale per club della FIFA anzi ha detto chiaro e tondo che il Real Madrid l'anno prossimo non parteciperà non parteciperà lui non parteciperà la squadra non parteciperanno i giocatori e nessuno tutti questi saranno a casa sul divano oppure in giro per le vacanze il motivo? il vil denaro cash i soldi perché ce ne eravamo detti ne avevamo parlato anche qui sul canale quando ci siamo qualificati avevamo letto tanti articoli che parlavano di 50 milioni garantiti soltanto per la qualificazione al Mondiale per club ecco Ancelotti ha detto che quei 50 milioni sono già diventati 20 cioè siamo oltre il 50% in meno rispetto a quelle che erano le promesse e Ancelotti dice solitamente una singola partita del Real Madrid vale 20 milioni figuratevi per un'intera competizione quindi no non ci muoveremo per una cifra così bassa ora io che vengo dai campi di provincia e che ho lasciato il crociato su un campo con più fango che erba mi viene un po' da sorridere pensando al fatto che una partita del Madrid possa costare 20 milioni io non credo che nessun club al mondo si avvicini a una valutazione così elevata per una partita di pallone tant'è che i 50 milioni promessi alla Juventus erano tanti per andare a giocare il Mondiale 20 sono pochi per tutta la competizione però mettere nel mirino 20 milioni per una singola partita beh è qualcosa di spaventoso secondo me di colossale non mi viene in mente nessun altro modo per descriverlo a maggior ragione per quello che dovrebbe essere l'attacco del Real Madrid nella prossima stadione anzi per quello che sarà perché l'ufficialità di Manpea è già arrivata quindi il Madrid l'anno prossimo se già adesso è stata una macchina da gole da trofei da Champions League non oso nemmeno immaginare cosa sarà l'anno prossimo poi sarà interessante vedere Mbappé nei panni nelle vesti di un 9 classico perché secondo me è un giocatore che ha voglia un po' più di svariare però avranno tanta libertà lui Rodrigo Vinicius Bellingham e mamma mia tutti quelli che arriveranno ancora quindi sarà molto interessante e Ancelotti non si ferma qua dicendo guardate che non è solo una posizione mia non è solo una posizione nel Madrid tanti altri club alla fine rinunceranno a questa roba qui per un discorso legato alle promesse non mantenute della FIFA per quello che vi dico si giocherà il Mondiale Pre-Club? Le Juventus arriverà a giocare il Mondiale Pre-Club? chissà sono curioso di questa cosa qua sono veramente molto incuriosito perché ormai non prendiamoci in giro il calcio è diventato prettamente una questione economica c'è lo sport piace al tifoso piace all'appassionato ma per il resto è tutta una questione economica e infatti l'anno scorso è entrato all'interno del circuito calcistico possiamo dire più circuito economico non lo so anche l'Arabia Saudita che ha fatto offerte a destra manca tanti giocatori tanti allenatori li ha portati là alcuni sono già tornati in Europa altri sono ancora lì altri non sono proprio contenti di essere lì e lì c'è Cristiano Ronaldo al Nasr al Nasr che sarebbe interessato in questo momento e anche in trattativa avanzata con Wojciech Szczesny eh con Teccone se avevamo parlato di qualche club di premier e qualche club arabo ecco che anche ieri Alfredo Pedulla insiste Szczesny in Arabia è una possibilità e stamattina ho letto anche tante altre fonti che andavano in questa direzione quindi una vera e propria ipotesi concreta diciamo così dato che sappiamo che la Juve ha individuato in Di Gregorio l'ha già chiuso deve solo ufficializzarlo il primo portiere per l'anno prossimo e se inizialmente avevamo in mente rivedere Di Gregorio e Szczesny alternarsi fino alla scadenza naturale del contratto del portiere polacco dato per fare il collegamento anche con Milik in occasione di Juventus Monza l'ultima giornata di Serie A era iniziata a circolare alcune voci su Szczesny queste voci stanno trovando conferma poi vale un po' il discorso per Chiesa e cioè in questo momento questi atleti sono impegnati focalizzati concentrati su quello che è l'europeo che sta iniziando ed è normale ed è giusto che sia così poi Chiesa Szczesny lato mio di preferenza puramente personale all'interno dei giocatori della Rosa del Juventus sono due o tre giocatori ai quali sono più affezionato e che mi dispiacerebbe tanto vedere partire però abbiamo capito quella che è la linea guida di Giuntoli un occhio al mercato un occhio al portafoglio un occhio al campo e cercare di ottenere il massimo unendo tutte queste componenti è Szczesny uno di quelli che guadagna di più Chiesa uno di quelli che guadagna di più è lo stesso Vlaovic uno di quelli che guadagna di più e secondo me l'anno prossimo diventerà un tema perché è difficile che non diventi un tema con l'ingaggio con il contratto folle che gli hanno fatto firmare in quel gennaio per convincerlo e ora bisognerà vedere se anche Vlaovic sarà disposto a fare un passo indietro per rimanere alla Juve io non sono mai convinto che le cose possono andare bene quando si parla di soldi cioè se un club come il Madrid che avrebbe tutto l'interesse del mondo di fare un mondiale per club FIFA essere magari la prima squadra nella storia a vincere il nuovo mondiale per club FIFA dice ma sapete che c'è se un pochi soldi non vengo allora capite che viene a mancare il gioco capite che è tutto basato sui soldi ed è normale che sia così è un lavoro è una professione è tutte queste cose quindi difficilmente si potrà andare da dei giocatori dentro la rosa della Juve a dire guadagnate meno come per me è difficile oggi che un calciatore della Juventus possa andare dalla Juventus dopo il ritorno che ha fatto dire dammi di più cioè o si rimane sulle basi che ci sono già oppure si cerca come nel caso di Rugani di venirsi incontro incastrarsi in determinate condizioni di carriera però è difficile secondo me per il calcio moderno chiedere a un calciatore di fare un grosso sacrificio economico per venire incontro al club secondo me queste cose ormai sono diventate una su un milione cioè l'Alessandro Del Piero che magari ti dice anche rinnovo in bianco non c'è ma io sono anche curioso anzi no non sono curioso perché no però sarei mi piacerebbe proprio solo capire senza doverlo vivere quanti oggettivamente dei calciatori ma ecco allarghiamo non solo della Juve della Serie A qualsiasi squadra di Serie A di alto livello retrocede come è accaduto all'Eventus nel 2005 2006 voglio sapere quanti giocatori delle rispettive squadre accetterebbero di andare in Serie B a giocare con quella squadra insomma veramente molto pochi tornando a Calciopoli c'era della gente che aveva appena alzato la Coppa del Mondo da titolare quindi sono cose un po' particolari che secondo me nel giro di 20 anni hanno cambiato radicalmente il calcio perché si parla di soldi e soldi e basta e ancora di soldi dovremmo parlare per forza di cose inerenti a calafiori ragazzi perché se l'altro giorno con Giovanni è stato lo stesso Giovanni a dirci attenzione un po' di rallentamento perché il prezzo sembra essere un po' più alto rispetto a quello pensato prima è saputo che ha chiesto 50 milioni di caffè 50 milioni di euro per il cartellino di Calafiori che è una cifra completamente folle fuori mercato come per me è folle fuori mercato la valutazione di 60 milioni per Comaner non perché Comaner sia scarso ma perché è un giocatore che ha già deciso di andare via è un giocatore che ha già dato disponibilità al trasferimento alla Juventus ha già dato ha già trattato con la Juve per un eventuale ingaggio quindi le condizioni di trattativa vanno tutte dalla parte della Juve 50 milioni per Calafiori non esiste in nessun in nessun universo parallelo c'è neanche l'unico che il Dr. Strange riusciva a vedere non c'è neanche quell'universo lì è una valutazione che non esiste ma è una valutazione che comprendo perché il Bologna ha un obbligo nei confronti del Basilea del 50% della rivendita sul valore del cartellino che significa che se la Juve compra Calafiori a 30 milioni il Bologna se ne piglia 15 e 15 si ripiglia il Basilea ma il fatto che il Bologna l'anno scorso sia andato a fare una trattativa di questo tipo con il Basilea perché magari non aveva soldi cash da spendere per Calafiori poi non può diventare un problema per la squadra che va a comprare perché un conto è comprare Calafiori a 30 milioni un conto è comprare Calafiori a 50 Bologna ha tutto l'interesse del mondo a trattenerlo ci mancherebbe altro ha fatto una stagione meravigliosa ha fatto crescere questo ragazzo è stato lungimirante ad andare a prenderlo se è verificato per la Champions League avrebbe volontà di trattenerlo però deve anche capire che se ha maggior ragione il tecnico che gli ha dato questa possibilità di arrivare anche a giocarsi un europeo di andare a giocarsi alla Champions League lo vuole con sé una nuova avventura credo che non possa fare i muri in questa maniera perché la valutazione di 50 milioni è fuori di testa io capisco che ci sia la problematica del 50% alla rivendita è una problematica concreta è una problematica seria è una problematica che secondo me va anche un po' ad annullare quelle che possono essere le contropartite ne avevamo parlato nei giorni scorsi se vi hanno detto Nicolussi Facundo Miretti Barbieri cioè sono tutti nomi che al Bologna interessano per Calafiori però questa percentuale del 50% della rivendita vale anche su di loro cioè se Nicolussi lo valuti 6 milioni e dopo 3 milioni il Bologna che esce dovrebbe dare la Basilea cioè bisognerebbe anche cercare di capire quanto è fattibile questa roba perché se no Giovanni ce lo spiegava l'altro giorno Giuntoli non è uno che sta lì a perdere del tempo cioè se le condizioni ci sono per fare bene ne parliamo se non ci sono grazie arrivederci ne parliamo un'altra volta in un'altra occasione per un altro giocatore ne vado a cercare un altro però il Bologna oggi ha la possibilità davvero di mettersi lì a chiedere 50 milioni per Calafiori con Calafiori che vorrebbe seguire Tiago Motta secondo me no nonostante la qualificazione in Champions ma perché perché il Bologna si qualifica in Champions e raggiunge lo status di un club importante che andrà a giocarsi una competizione importante ma rimane sempre un club che punta magari a riqualificarsi alla Champions la volontà della Juventus di aggiungere Calafiori in organico è una volontà sul lungo medio periodo di arrivare a giocarsi qualcosa di più anche all'interno dell'Italia tant'è che va a prendere l'allenatore del Bologna e gli dà 5 milioni di euro all'anno che diventa uno degli allenatori più pagati in Italia quindi secondo me è difficile poi fare i muro nei panni del Bologna ma ha ragione se il ragazzo va lì dice ragazzi ma cosa state facendo però la percentuale del 50% è una percentuale grossa è una percentuale impattante sul cartellino e capisco che il Bologna dica sì vabbè 30 milioni me ne piglio 15 l'ho pagato 4 5 alla fine ci guadagno 10 milioni per Calafiori bello fantastico e no c'ha ragione perché hanno tutte le ragioni del mondo però si sapeva che c'era questa clausola forse neanche il Bologna si immaginava di poter rivendere subito Calafiori dopo una stagione del genere a cifre importanti ma con le cifre importanti diviso 2 diventa in cifre meno importanti quindi sono anche curioso di sapere un po' la vostra secondo voi questa cosa può davvero complicare la richiesta perché questa richiesta di 50 milioni sembra quasi della serie se io da Calafiori voglio ricavarne 25 e 25 le dovrei dare al Basilea quindi vedete che cosa fare ma credo che queste cifre qua sia impossibile per la Juventus sedersi al tavolo delle trattative voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti su tutte le tematiche anche su quella del mondiale per club perché su me sono molto interessanti ciao a tutti ragazzi